niente da fare una serata stregata per la rr tale che ce l'ha messa tutta contro empoli ma empoli ha dimostrato di avere in questo momento qualcosa in più congela il pallone empoli che vince dunque questa gara 73 a 64 e consolida il vantaggio in classifica per rr tale una battuta del resto la prima casalinga e adesso un'altra gara importante la prossima settimana a bologna vedremo come avrà inciso questa sconfitta sul morale della squadra di coach william orlando che rimane comunque una grande realtà di questo torneo affrontato da neo promossa vedremo ripeto ancora la strada è lunga certo questa è una sconfitta che fa male deve fare anche riflettere per costruire un proseguimento di campionato una sconfitta che brucia quella della rr tale davanti al pubblico amico contro la prima della classe empoli 73 a 64 il risultato finale empoli quindi fa uno scatto forse decisivo chi lo sa verso il primato della classifica in questo momento sono quattro punti sostanzialmente reali di distanza e considerando che poi c'è il doppio scontro diretto a favore chiaramente sono diventano sei addirittura i punti di vantaggio teorici di empoli nei confronti della rr tale una gara che si è decisa sul tiro e non è un mero esercizio di stile ma è solo matematica molto precisa empoli nel tiro da tre scarsamente precisa la rr tale e su questo si è giocato praticamente il match con la rr tale che soprattutto nel terzo quarto è stata costretta a rincorrere forse le energie che sono state profuse nel recuperare il meno 11 proprio nel terzo quarto hanno come dire tenuto la rr tale con il braccio corto nel momento decisivo della partita nell'ultimo quarto quando al sul finale tanti tiri sono usciti di un niente c'è subito da ricominciare a lavorare per un'altra gara importante la prossima settimana altro scontro diretto di altra classifica contro bologna a bologna dunque per la rr tale ancora un match verità in questo percorso nei vertici della graduatoria manuela moretti e sarà innocenti certo non è facile commentare una gara che ha visto per la prima volta cadere l'imbattività del palagalli c'era empoli che la prima della classe non a caso forse però qualche rimpianto ma sicuramente diciamo che abbiamo sbagliato delle cose e loro sono state bravissime a punirci su ogni errore ma hanno tirato benissimo da fuori però lo sapevamo sapevamo che tipo di squadra erano e alla fine il nostro approccio inizialmente è stato giusto ma secondo me non siamo state abbastanza ciniche nel momento nel momento in cui siamo andate in vantaggio a chiudere la partita in effetti c'è stato questo recupero importante tra fine terzo quarto e inizio quarto quarto poi lì qualcosa si è bloccato sì non so sinceramente se è stata paura di vincere o semplicemente la loro maggiore esperienza a riprendere in mano la situazione e abbatterci sarà innocenti delusione comunque abbiamo visto il pubblico che vi ha sostenuto fino in fondo d'altra parte a volte c'è anche questo sì certo ringraziamo il pubblico purtroppo eravamo a casa nostra volevamo mantenere il fattore campo dell'imbattibilità era un derby quindi loro sono state brave perché hanno punito ogni minimo nostro errore hanno avuto una percentuale del tiro a tre punti molto molto buona e purtroppo dobbiamo lavorare sui nostri errori e pensare già alla partita successiva che è Bologna un'altra grande sfida e provare a non ricommetterli e portare di nuovo due punti a casa in effetti un periodo davvero rovente per voi sicuramente dopo Empoli Bologna è una doppia sfida importantissima per le zone alte della graduatoria sì assolutamente il giorno è di ritorno purtroppo non possiamo più commettere errori se vogliamo rimanere nell'alta classifica ora ci aspetto un'altra gara importante e sarà difficile ma dobbiamo provare a portare due punti a casa e vincerle in tutti i modi Andrea Franchini vice coach della RR Retail molti rimpianti stasera sì molti rimpianti perché questa è una nostra squadra che ha sempre segnato molto e la difesa è sempre stata un pochino il tallone d'Achille e stasera si sono verificate tutte queste situazioni qui e loro hanno tirato non bene di più però hanno tirato sempre libere quindi di solito non è una percentuale da basket femminile questo io anche alle finali Coppa Italia non hanno usato queste percentuali nessuna delle squadre presenti però se le persone tirano al libere ci sta anche che faccio un canestro abbiamo trovato una squadra che veramente ha segnato tanto da tre punti la differenza sta lì perché noi non abbiamo giocato male siamo stati un po' ruffoni però ci sono quegli altri che sono primi in classifica hanno difeso molto forte la differenza è stata proprio non si dovrebbe lì nella palla canestro la matematica però se non si fa 2 su 20 da tre punti e gli altri invece fanno 12 su 20 da tre punti poi magari la differenza del punteggio salta agli occhi poi oggettivamente hanno tirato anche un sacco di tiri liberi insomma anche oggi non è che ci hanno voluto tanto bene ecco poi soprattutto c'è stato davvero a livello di tiro da tre Empoli un terzo quarto penso ai limiti della perfezione credo abbiano sbagliato gli ultimi due tiri da tre poi il terzo quarto non hanno mai sbagliato ma non hanno tirato solo due volte quindi è chiaro che quando entra il tiro da fuori è un aspetto importante del gioco che poi anche crea grandissimi problemi all'altra squadra noi potevamo allargare l'area e servire meglio pivot se qualche canestro da tre punti c'entrava oggettivamente anche quelli tirati bene con i piatti per terra eccetera sono andati fuori e allora purtroppo lì non ci si può fare più nulla perché non si può dare la palla al pivot perché congestionano l'area la palla va fuori si tira libero e non si segna e la differenza poi alla fine è stata quella più tiri liberi che ne hanno tirati penso molti più di noi e già è stata così di aver rimesso la partita sul filo siamo rientrati lì puntavanti e poi sono episodi anche adesso il ciclo di ferro appunto continua con bologna un'altra partita non facile contro una squadra che forse vi assomiglia di più per certi ma sai dal punto di vista dell'organico no perché ora stanno giocando con un mezzo pivot e basta giocando con quattro guardi anche la coppa italia hanno giocato con quattro piccole e questo a noi ci metterà sicuramente in difficoltà quindi il coach bisogna studiare questa settimana qualcosa per ovviare a questo problema perché loro giocano con una mezza lunga di un metro e settantotto neanche metodo non arriva un metro e ottanta e quindi il resto sono guardi da un metro e settanta quindi pensate non so tipo schiadopolo sossanni a dove marca una di un metro e settanta quindi bisogna cercare qualcosa per ovviare perché loro sono una squadra coriacea vanno su tutti i palloni ti li strappano di mano corrono non per nulla sono arrivati in finale prima e secondo alla coppa italia ecco grazie a tutti